Il Campania Teatro Festival, nel suo ultimo giorno di programmazione, ha fatto tappa a Salerno con uno spettacolo che ha reso omaggio alla bellezza della poesia e della libertà riconquistata. Da Piazza Cavour sul lungomare, lo spettacolo itinerante è la rinascita e il signor Mezzogiorno incontra Marco Cavallo, liberamente ispirato al poeta salernitano Alfonso Gatto e a Marco Cavallo, la storica scultura in legno e carta pesta che fu realizzata nel 1973 all'interno del manicomio di Trieste, nata da un'idea di Giuseppe dell'Acqua, Dino Basaglia, Vittorio Basaglia e Giuliano Scabbia. La compagnia stabile Teatri di Popolo, in collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale di Salerno, fa dialogare Marco Cavallo con il signor Mezzogiorno, personaggio partorito dalla pena di Alfonso Gatto perché la piazza della città senta e torni quanto prima a riconsiderare la vita per quello che è. Poesia. L'ideatore Marco Dell'Acqua. È uno spettacolo che nasce dai lavori istituiti dal Dipartimento di Salute Mentale che ipotizzano la riabilitazione come luogo in cui l'utenza ha la possibilità di ritornare, ad esistere e ad intercettare il mondo del lavoro, in questo caso il mondo del lavoro e dello spettacolo e del teatro e quindi il teatro viene utilizzato come strumento per riconsiderare la socialità come un momento di partecipazione attiva, non di chiacchiera che rimane nel vento. Il teatro per me è una lezione di vita, è un lavoro artigianale, il teatro si fa perché si lavora, io sono sei anni che sto in teatro e sto imparando a recitare, sto ascoltando i miei colleghi perché il teatro ti impara ad ascoltare i tuoi colleghi per andare avanti, io sono contento, ogni tanto sbaglio però questo sbaglio mi fa andare avanti perché a me il teatro mi piace, da piccolo mi è sempre piaciuto, tramite la televisione perché quando ero dei grandi attori mi innamoravo e c'è entrato qualcosa dentro di me e va davanti, è una passione.